API, sinonimo di Application Programming Interface. Durante il corso di questo video vi andrò a spiegare che cos'è l'API Crypto, come funziona, qual è la differenza tra l'API pubblico e l'API privato e dove trovare gli API di tutti i principali exchange crypto. Quindi vi farò vedere dove trovare l'API di Binance, Coinbase, Crypto.com, FTX, KuCoin e Huobi Global. Ecco, diciamo che andiamo a comprendere tutti quelli che sono i principali exchange crypto. Su Google e su YouTube non c'è nessun video che parla degli API crypto, quindi durante il corso di questo video ho deciso di approfondire un pochino la faccenda, partendo dal presupposto che non ho grosso materiale sulla quale far riferimento, perché davvero sia in italiano sia in inglese non c'è niente. L'importante è che diciamo alla fine di questo video voi abbiate un'idea abbastanza chiara di cos'è un API crypto e appunto mi tengo la seconda parte a computer per farvi vedere dove troviamo gli API di tutti i principali exchange. Gli API crypto non è un qualcosa che nasce con le crypto, ma è un qualcosa che è già presente per esempio, non lo so, su Facebook, su Instagram. Infatti quando noi per esempio andiamo ad effettuare un accesso ad un'applicazione tramite per esempio Facebook o tramite Google, Facebook e Google in quel preciso istante stanno andando a concedere gli API a quella determinata applicazione. Quindi quell'applicazione si sta connettendo con Google, con Facebook eccetera eccetera. Quando si parla di API nel mondo crypto, tendenzialmente quali sono le piattaforme che vanno ad offrire un servizio di collegamento di API? O quelle piattaforme che permettono di avere un report fiscale, per esempio Atani, Atani è una piattaforma che permette di avere un report fiscale di tutti i principali exchange crypto. Oppure possiamo utilizzarle per esempio per andare a connettere con un conto di trading. Quindi ci sono software che vanno a sviluppare in un programma che è compatibile con Binance, compatibile con FTX. Avendo questa compatibilità e collegando quelli che sono gli API, l'applicazione riuscirà appunto semplicemente tramite l'API a gestire il conto principale, il conto io lo chiamo conto ospitante. Tendenzialmente questi sono i due usi che si vanno a fare nel mondo crypto. Adesso premessa importante, ci sono state moltissime truffe crypto legate al fatto del furto degli API, quindi l'importante è che voi teniate sempre privati quelli che sono i vostri API, soprattutto con malintenzionati, con terze persone. E quando voi lo andate a fare in una piattaforma, quindi quando voi andate a connettere gli API di un vostro exchange in una piattaforma, informatevi e cercate di capire se la piattaforma è scam. Perché se la piattaforma è scam o se per caso voi andate a capitare in un sito con una lettera diversa appunto creato per rubarvi le crypto, per appunto prendere gli API e fondamentalmente svuotarvi il conto, dovete fare attenzione. Quindi mi raccomando fate attenzione a questa cosa, quando andate a collegare gli API valutate sempre bene la piattaforma che andate a collegare. Adesso, prima di passare dentro gli exchange e farvi vedere dove troviamo gli API di ogni single exchange, vi vado a fare questa differenza. Praticamente ci sono due API, cioè l'API privato e l'API pubblico. L'API pubblico fondamentalmente è un API che ci permette di collegarci con una piattaforma. Quindi c'è questa piattaforma di trading che vuole collegarsi a Binance, bene, deve collegarsi tramite l'API pubblico. Poi cosa succede però? Che chiaramente io posso avere un conto all'interno di Binance, così come te, così come migliaia di altre persone. Per identificare questa persona e per poter andare ad operare nel conto di questa persona all'interno della piattaforma che abbiamo collegato, serve l'API privato. Quindi questa è la differenza tra chiave pubblica e chiave privata, spiegata in un modo grossolano. Poi io non sono il maggior esperto in settore, quello che vi consiglio è di conservare privatamente, per quanto possibile, appunto le vostre chiavi, che siano private o pubbliche. Cercate di non farle vedere a nessuno. Per quanto riguarda gli API, non c'è un massimo di API che possiamo andare a creare all'interno degli exchange. Quindi per esempio su Binance possiamo crearne quanti ne vogliamo. Stessa cosa per esempio su Coinbase o sugli altri exchange. Poi chiaramente ci saranno dei limiti, ma non lo so. Ecco, diciamo che con due o tre chiavi, ecco, quante piattaforme volete collegare all'exchange, voi siete tranquilli. Ecco, in ogni caso potete decidere di eliminare l'API in qualsiasi momento. Quindi cosa vuol dire? Che se voi scollegate l'API dalla piattaforma o eliminate dall'exchange nella quale avete creato il vostro API, questo API, scomparirà appunto il collegamento. Quindi una volta che avete creato le chiavi, sarete liberi anche di eliminare le chiavi. Niente, quindi io spero di avervi spiegato più o meno tutto per quanto riguarda gli API. Vi ripeto, non è un settore che mi riguarda, è più legato all'informatica. Però siccome noi lo vediamo applicato nel mondo cripto e non c'è, ripeto, nessun video in Italia, su YouTube o su Google, ho deciso di portarvi un mini tutorial. Adesso direi di trasferirvi il mio computer e di farvi vedere dove troviamo gli API di tutti gli exchange cripto. Ok, perfetto, quindi eccomi all'interno di Binance, primo exchange di riferimento, poi passiamo agli altri. Dove trovate la sezione API? La trovate sotto questo pulsante, gestione API. Io avevo già creato delle API nel mio conto Binance, infatti ecco qua che viene fuori chiave API creata, perché appunto io sono già andato a crearla. Voi come potete andare a generare delle API all'interno del vostro account? Dovrete andare su crea API. Voi avrete due pulsanti, o crea API o crea API per report fiscali. In questo preciso istante vi faccio vedere come creare API per report fiscali, perché l'API normale l'ho già creata. Quindi basterà cliccarci sopra. A questo punto, vabbè, solita verifica di sicurezza. Dobbiamo inviare tutti i codici nella mail e autentificare tramite Google. Quindi un secondo mi ricollego a voi. Ed eccoci qua, quindi l'API è stata creata. Per esempio su Binance abbiamo un limite di creazione di 30 chiavi API. Quindi potremo generare fino a 30 di queste chiavi che voi state andando a vedere qua. L'API non è altro che un codice QR che ha una chiave pubblica, che è l'API che è questa qua. Sotto questa scritta c'è un elenco di numeri e lettere che vanno ad identificare quella che è la chiave pubblica. E poi c'è anche la chiave privata di questo determinato API. Adesso vi faccio vedere l'esempio per Binance. Poi voi sappiate che potete andare a modificare le restrizioni di qualsiasi altro exchange. Cliccando sul pulsante modifica le restrizioni, noi potremo avere la possibilità, vedete, di limitare l'accesso solo a IP affidabili. O diciamo di scegliere altre piccole opzioni. Per esempio se adesso questa è un API legato al gestire un report fiscale. Ma se avessi creato un API normale avrei per esempio un pulsante che mi permette di autorizzare il trading in una piattaforma esterna. Quindi molto semplice, l'API non è altro che questo codice QR che viene rappresentato dalla chiave pubblica e la chiave privata. Direi di passare al secondo exchange riferimento, quindi eccomi all'interno di FTX, il mio exchange principale in questo momento. Dovete andare chiaramente sul pulsante API, quindi sul pulsante, su questo pulsantino e da questo pulsantino andate su API. A questo punto dovete scendere la pagina e vedete da qua potete andare a creare quelli che sono i vostri API. Si vanno a generare la chiave pubblica che è questa sopra e la chiave privata che è questa sotto e semplicemente con queste due frasi noi riusciamo a collegarci con l'exchange, con la piattaforma che vogliamo appunto collegare. Sempre all'interno di FTX potete andarvi a leggere tutta la documentazione andando a cliccare su API Documentation. Passiamo al third exchange riferimento, cioè UOB Global. Dovrete andare su questo mino e andare su API di gestione. A questo punto con lo stesso principio con il quale abbiamo fatto negli altri exchange avremo la possibilità di creare un indirizzo, vedete, per esempio lo chiamo Memo. Vado a creare e vado a creare un API, vedete, UOB mi dà la possibilità di scegliere a priori quelle che sono le condizioni del mio API. Andando a cliccare su Crea verrà generato un API e ci verranno date quelle che sono appunto la chiave segreta e la chiave pubblica. Quindi andiamo a generare, ecco qua, se io vado a confermare mi sarà generato l'API qua sotto e sarò in grado di appunto avere accesso alle due chiavi. Quarto exchange sono all'interno di UOB, gli API all'interno di UOB li trovate andando a cliccare su questo pulsante e andando a cliccare su gestione API. Si apre questa schermata e così come negli altri exchange avremo la possibilità, vedete, di creare un API andando appunto a dare quelli che sono i nostri input, quindi andando a dare delle limitazioni, delle condizioni al nostro API e basta. Una volta che avremo dato, avremo proseguito con questo pulsante verranno generati la nostra chiave pubblica di KuCoin e la nostra chiave privata di KuCoin. Ultimo exchange sono all'interno di Coinbase, su Coinbase le API le troviamo andando a cliccare sotto la voce impostazioni, andiamo di nuovo sul pulsante impostazioni e a questo punto andate su API. Quindi andando a cliccare su API abbiamo la possibilità, vedete, di creare, quindi andando a cliccare su new API case abbiamo la possibilità di creare delle nuove API. Quindi chiaramente dobbiamo andare a confermare con il Cufactor Authenticator perché io ho il Cufactor Authenticator su Coinbase, quindi confermiamo. E a questo punto, vedete, possiamo andare a creare degli API molto interessanti perché all'interno di Coinbase potete andare a creare degli API personalizzati solo su, per esempio, Bitcoin o solo su Ethereum. Quindi scelgo, per esempio, Bitcoin, posso andare a scegliere i permessi, quindi per quanto riguarda gli API forse l'exchange che mi dà la possibilità di personalizzare di più, ecco, in base. E una volta che noi abbiamo selezionato le cose che vogliamo andare a selezionare andiamo sul pulsante Create. E una volta che andremo sul pulsante Create verranno generate quelle che saranno le nostre chiavi private e chiavi pubbliche. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stato chiaro per qualsiasi dubbio, domanda, se mi sono sbagliato su qualcosa, se volete correggermi, sono a disposizione nei commenti. Mi raccomando, lasciate un like per il mio lavoro, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i miei prossimi contenuti. Da Simodefa anche per oggi è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao raga!